Gli alberghi a Milano sono impattati, da un'occupazione media dell'85% sono passati al 10% di occupazione, quindi il discorso della cassa integrazione è solo questione di giorni, penso che tutto il settore ha bisogno molto di più della cassa integrazione, ha bisogno di un piano Marshall per ricominciare. La crisi che è iniziata nel 2007-2008 è paragonabile in qualche maniera a questo frangente, secondo lei? Se uno volesse fare una curva statistica ha una dimensione diversa, qui il picco è molto più violento, là era stato violento all'inizio e poi è durato un anno quella crisi sulla mobilità e sul turismo, poi dopo in altre cose è durato molto di più, però il declino è stato meno rapido, qui il declino è stato del 90%, per cui mi aspetto un ritorno della normalità tra due o tre mesi, normalità che non sarà mai comparata all'anno scorso ma sarà secondo me molto negativa anche sull'estate.